bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie dopo Resident Evil 4 è tempo di fare il 5 e spero che il copyright non mi rompa proprio vabbè ragazzi vi auguro una buona visione un attimo sono tutte le armi e i combattamenti visto che lo stavolo asortino con un mio amico ecco solo la pistola e l'eseruzione mischia bene ragazzi si comincia a Grazie a tutti. 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 Quelle urla non promettono niente di buono a... Si, le forza andare a vedere Purtroppo Beh, vediamo cosa... Sta succedendo Sicuramente è qualcosa di brutto, questo è sicuro? Sì, Cosa! Spaz! Sì! 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 Sei di bene? No! Eh no, vedevo che sei, bello. Che capisci, muori. Ci sta amato? E non credo. Non muovono come alcuni zombie che ho mai visto. Calm. C'è una porta, quindi pongo la finestra. Geronimo! Ok, adesso.... Da quale parte? Ah, un po'. Ragazzi, si arrivano! sono una frotta e si può dire di scappare c'è gente ma qua è chiuso siamo al completo il tuo grado di da me lo stile i locali erano hostili e avevamo usare forza non abbiamo nessuna prezzi per questa situazione roma sui locali ma il tuo ordine è ancora in sé cosa significa? era l'HQ per aspettare questo? abbiamo la porta non è vero che... Assa gigante ragazzi, ce ne sono tante, questa assa mi ricorda, se non sbaglio c'era anche uno con questa asa, in grado di evolo 4 mi sembra, o forse mi confondero con un film, boh, ma qui mi spero di non avere sorprese, ma, se sono di cadaveri, questo qua sembra quello di Outras, beh, sei lì, va, come on, take it, ok, come on, ok, 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Utilizzare i turcetti! La visione è una visione REALLY! La visione è la visione di sempre! L'onenorme è la visione! Vieni, vieni, faccio il problema, non l'hai detto, li vieni, bravo, li vieni, tutto l'attività. E vai, arriviamo con i sopporsi. Che mira! E... beh, ragazzi, questo primo episodio finisce qui. E se volete, non so, fare un episodio con me, basta scrivere nei commenti e vi aggiungo alla mia bacche degli amici, insomma. Vabbè, ragazzi, ciao! Ah, eh, aspettate un attimo. Ok, ora, ciao!